Allora però prima del bis vorrei ancora chiamare qui per un saluto diciamo così non finale ma quasi finale il consigliere Paolo Bassi, eccolo qui, prego. Accogliamo anche lui con un bel applauso il nostro rappresentante, eccolo qui. Grazie mille. Grazie mille, buonasera a tutti, porto i saluti del consiglio della provincia di Asti e soprattutto del suo presidente Paolo Lanfranco e ringrazio il sindaco Alessandro Bagliano per questo gradito e cortese invito. E' una bella serata, va tutto quasi bene salvo che l'intera persona finale ma questo è un problema mio e un ringraziamento anche ai ragazzi della protezione civile che stanno curando molto bene tutte le distanze, fanno sedere nei posti giusti e un applauso anche a voi fatevelo pure per come vi comportate. Vi saluto e una buona serata.